Si è riunito il Consiglio Comunale di Caltanissetta per discutere sull'interrogazione a prima firma del consigliere Salvatore Licata e sottoscritta dai consiglieri Carlo Campione, Linda Talluto, Oriana Mannella e Angelo Failla che raccoglie le istanze dei residenti del piano Geraci, il blocco di costruzioni nel quartiere Balate. Rilevato che a distanza di 39 anni dalla stipula della Convenzione, alla maggior parte degli acquirenti non è stato permesso di sottoscrivere il contratto definitivo di passaggio della proprietà nonostante abbiano saldato interamente il mutuo. 192 alloggi costruiti dopo una deliberazione del Consiglio Comunale del 1975 che concedeva il diritto di superficie alla ditta Luigi Geraci e per convenzione stipulata con il Comune di Caltanissetta. Alloggi destinati a fasce socio-economiche più deboli con prezzi prestabiliti dal Consiglio Comunale. Noi oggi siamo qui per voler verificare che cosa il Comune oggi ha fatto a favore di queste persone perché se è vero che da un lato il Comune ha seguito queste persone in un lasso di tempo molto breve. siamo con la stipula della Convenzione, è stato dato il mandato al costruttore di realizzare gli alloggi dopodiché il Comune sembrerebbe essersi smarrito, nel senso che non ha più seguito l'iter di formazione che ha portato a stabilire sia il prezzo finale sia il definitivo. Noi oggi attraverso anche l'Avvocato Licata, il quale si è mostrato molto aperto nel seguirci, lui e gli altri tre consiglieri, abbiamo cercato di... abbiamo semplicemente chiesto al Comune che cosa hai fatto fino ad oggi, che cosa hai intenzione di fare per il futuro nei confronti di queste persone che ancora ad oggi non possono dirsi proprietari di casa. Teniamo presente che non essere proprietari di una casa da 40 anni significa non poterne usufruire, significa non poterla vendere, non possono cambiare casa perché è invendibile ad oggi, perché non hanno un titolo a cui cederla. Significa anche non poterla affittare, nonostante molte di queste persone oggi paghino le tasse e si comportino da proprietari. Vedremo oggi finalmente se questa amministrazione ci dà un segnale di apertura anche per capire qual è stato l'intoppo che ha portato a questa situazione che oggi possiamo dire chiaramente di stallo, perché è vero, si sono susseguite sentenze, che si sono susseguite sequestri, rigetti di sequestri o altro. Però oggi siamo sempre nella situazione di essere non proprietari di questi immobili. La questione del piano generale è stata immediatamente attenzionata da parte dell'amministrazione, tant'è che immediatamente abbiamo sollecitato sia l'ufficio tecnico competente in relazione alla predisposizione di una relazione sull'aspetto legato all'indicazione o comunque al completamento dell'iter relativo all'individuazione del prezzo di acquisto di questi immobili da parte dei promittenti acquirenti, sia richiedendo un'eventuale nuova formazione della commissione prevista nella convenzione tra i promittenti acquirenti e l'impresa Geraci. Le interrogazioni servono anche da pungolo per l'amministrazione per non tralasciare, cosa che noi tra l'altro non facciamo, questioni dove comunque il Comune ha o potrebbe avere un ruolo attivo. E quindi sotto questo aspetto faremo quanto nelle nostre possibilità per sbloccare la vicenda relativa agli alloggi di piano Geraci.